Il viaggio è ritroso nel tempo inizia a Nolan, nel 2012, in una scuola. Piero Terracina, deportato e sopravvissuto ad Auschwitz, racconta la sua storia davanti a 600 alunni pietrificati dalle immagini evocate dalle sue parole. A volerlo in quell'istituto come testimone i due sacerdoti francescani, padre Massimiliano Novillo e padre Luigi Di Palma, attualmente del convento dei Cappuccini di Napoli a Chiaia. Ed è proprio da questo colloquio e da altri che ne sono seguiti che nasce il libro Testimonianza di padre Luigi Di Palma, memoria della Shoah, edito da Diogene Edizioni. L'autore ha consegnato il testo a Piero Terracina dopo una breve visita nel quartiere ebraico di Roma, dove ha incontrato anche Lello della Riccia, membro del direttivo dell'associazione Progetto Memoria. Questi libri sono molto importanti, innanzitutto perché nel particolare di questo libro c'è un'intervista molto bella, molto lunga, molto toccante ed efficace a Piero Terracina. C'è una riflessione dell'autore sulla Shoah e una cosa ancora importante, c'è anche una cronologia che in qualche modo è uno strumento di studio, ma è anche un documento, come posso dire, un monumento, qualche cosa che serve a ricordare nei particolari. Padre Luigi Di Palma ha raccolto con sensibilità i ricordi intensi e spesso cupi di Terracina, ricavandone un lavoro straordinario per quell'urgenza di fare memoria che in questo periodo storico è quanto mai necessaria. La testimonianza è sempre fondamentale in ogni tempo perché la persona che la riporta non esprime un pensiero, ma esprime un'esperienza, esprime un vissuto, esprime la partecipazione di tutta la sua vita a un evento. Da questo evento può essere stato toccato positivamente o negativamente. Dalla testimonianza c'è sempre da imparare, ma quello che conta è che possa essere trasmessa attraverso la vita stessa. Nonostante siano trascorsi 75 anni dalla deportazione, Terracina ricorda con lucidità particolari i dolori, come ad esempio le parole di un preside di origine napoletana che accolse gli alunni ebrei espulsi dalla scuola italiana a seguito delle leggi razziali del 1938. Il professor Nicola Cimmino si chiamava, ricorda il nome. Quanti sono gli adulti che ricordano il nome del preside di quando andavano a scuola? Credo che siano molto pochi, io invece lo ricordo. Era veramente un uomo straordinario. Parlava spesso con noi ragazzi, entrava nelle nostre classi, mi ricordo le sue parole che dicono le leggi razziali vogliono far credere che appartenete a una razza inferiore. Io vi conosco tutti, so che siete perfettamente, esattamente uguali a tutti gli altri ragazzi della vostra età, però voi lo dovete dimostrare. Quindi datevi da fare e studiate.